Essere felici di seguire quella cosa che ti sembra raggiungibile Non essere tranquilli perché qui lo sai che non c'è tempo da perdere Essere davvero consapevoli che a 25 anni ti vorresti realizzare poi Non essere tra quelli che ripetono duemila volte al giorno che non cambierà niente Che non è vero e invece cambia tutto Essere facile per affrontare tutto come un fucile Non essere umile che tanto a te nessuno poi lo è Essere corretti e però capire che si può cambiare idea E non essere convinto che la colpa sia degli altri che non c'entri te Essere importante per la donna che ti ama e che ti stringe forte dentro sé